E per me sono DarkSolo, oggi siamo in un nuovissimo video, oggi siamo con BrainOut Allora, posso spiegare per il fatto che non ci sono stato, il mio account era bloccato Esatto, avete capito che dice? Ma hanno bloccato l'account perché? Ehm, lasciate stare perché stanno bloccando il mio account, robe mirme, robe osse, ciao Iniziamo sovigissimo, allora Allora, ci spero di poco a Natale, ok, iniziamo sovigissimo Questa è una buissima Tiana, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Questa è una buona E' più alto A Sol Guarda che bellezza Eccolo Ok, questa qua non ci ho capito una minchia, no, per dire Quindi, ci vediamo quando l'avrò finito, forse se ci riusci, aspetta Aspetta, forse sono un genio Ma proprio, ma proprio no Aspetta, forse sono un genio Trascina, andrò a trascinare il cordo fuori dallo schermo Aspetta Non lo so Allora, 1, 2, 3, 4, 5 Quindi, ci vediamo a a tua madre ragazzi vediamo dove funzioniamo sull'occhiave eccomi come dici veramente no ragazzi veramente sta rispondendo non ho guardato sotto la macchina non ho guardato sotto la macchina ma siete scemi 4 più 5 è ovvio 9 vero 54 la tua madre e comi aspetta non ci credo tante quelle risposte erano false 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 No, nulla, tocca tutti i frutti da sinistra, ok, ora non devo spostare, aspetta, non tocca tutti i frutti da sinistra. Aspetta, e se io faccio il sì? Ok, sono cinque, quindi uno, due, tre, uno, due, ma tu la mandi? No, che bene, ok, eccomi, ho trovato la chiave, cosa conta come frutto? Cosa conta come frutto? Non l'ho capita, non ho capito. Non posso, vabbè, cosa posso fare, mi vuoto, mi vuoto, mi vuoto, mi vuoto, no, ok, si doveva scioccare, se non scioppo, forse, non rompetemi le palle. Comunque, spero che vi sia piaciuto, il FNAF a caso tornerà, non vi preoccupate, perché non riesco a trovare il FNAF, e vabbè, ciao, credo.